signori fate attenzione che il video che sta per seguire contiene uno spoiler signori alla bravura di un comico dove sta nel riuscire anche senza avesse la preparata no fare una battuta partendo da nulla cioè mentre stai facendo cose piglie e riesce a fare una battuta pure sul minuto questa è la propria bravura di un comico mo vi dico quella che ho sentito io da victor lazio 88 è un recensore di film molti lo conosceranno e fosse uno dei migliori che sa che ho visto su youtube allora sentite bene stava facendo una gara sul canale di pampling youtube di pampling a fare una specie di car a botte risposta c'è da una frase uno doveva riuscire a capire che tipo di film in quale tipo di film ci stevano allora la banditrice è una signorina che adesso non mi ricordo il numero stava dicendo ste frasi allora stavano i concorrenti che dovevano rispondere la frase da cui hai partito una battuta che a me ha in quel momento mi ha fatto leader però pure agli altri perché cosa comunque era questa hai capito il gioco io vi dico una frase e voi mi dovete dire il film a cui apparteneva la frase era ci serve una barca più grande tutti quanti stivano pensando che quale era il suo film che non si riusciva che victor lazio se ne partito con titanic ma io a me non mi fa ridere perché perché bisogna riuscire a creare l'atmosfera proprio però in quell'atmosfera la lui si è riuscito a uscisse fuori con questa battuta magari adesso non fa ridere però deve essere cioè devi stare a seguire tutto quanto il momento lui l'ha capita al volo e si è riuscito con la battuta non si era a preparare perché non aveva però è stato il momento là e si è riuscito a fare si è riuscito a creare l'humor cioè l'humor cioè non è che si era preparato prima è riuscito a cogliere la situazione e uscisse ma secondo me manco lui è stato capace di pensava che riusciva a fare una cosa del genere comunque io ci ho fatti i complimenti perché io a parte che tu stiscava di nasi no io ho fatti i complimenti perché è riuscito a far ridere la gente c'è proprio da nulla c'è manco io fosse se fosse riuscito tanto per farvi capire danni saluti è veramente in descrizione tutto la cosa perché se si parte da dove si è partito lui non fa ridere sarebbe partire proprio dall'inizio danni saluti avevo fatto lo spoiler come cavolo si chiama non funziona più ma l'inizio né eh non li saluti